Buongiorno, bentrovati appuntamento, il primo della settimana con mattino 6 di lunedì 11 settembre 2017, oggi si ricordano i Santi Proto e Ignazio, martiri della Chiesa Romana. Apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani regionali, partiamo dal centro, dalle quattro edizioni del Quotidiano d'Abruzzo, iniziamo con la prima pagina dell'edizione di Pescara, il titolo principale riguarda l'incendio della Pineta D'Annunziana a Pescara, avvenuto nella tarda serata di sabato, vedete il titolo a tutta pagina, il titolo principale, Pineta a fuoco per la lanterna cinese, l'inchiesta sul rogo, due testimoni rivelano fiamme dall'alto, bruciati 10 alberi. Vediamo anche le altre notizie che riguardano la prima pagina, i genitori oggi verifichiamo se le scuole sono sicure, si parla ovviamente dell'apertura dell'anno scolastico, vedete il corredo di foto e poi in primo piano, sempre nella prima pagina dell'edizione di Pescara, si torna sulla tragedia del 18 gennaio scorso a Rigopiano, nuovi sequestri, allarme valanghe nel piano regolatore mai approvato in 16 anni. E poi altre notizie, in questo caso in chiave nazionale, dramma a Livorno, nubi fragi e frane, sei morti e due dispersi, a Firenze il carabiniere indagato dice non pareva ubriaca, riferendosi alla ragazza che sarebbe stata violentata proprio dal carabiniere, poi allarme malaria, bimba morta, forse punta da Ago Pungidito. Vediamo altre notizie, invece tornando alle cose di casa nostra, il calcio Pescara-Pettinari, ecco i segreti del bomber, il bomber del Pescara Stefano Pettinari, autore di sei gol nelle prime tre partite di campionato e poi il premio campiello che parla abruzzese di Pietrantonio ho vinto anche per l'Abruzzo. Vediamo la prima pagina edizione di Teramo del centro, rientro in aula tra dubbi e timori. Qualche genitore terrà oggi figli a casa e in città arriva il ministro dell'istruzione fedeli. Per quanto riguarda il primo giorno di scuola qualche problema, qualche timore e vedremo che i problemi maggiori in queste ultime ore ci sono però nella Marsica. Vediamo anche gli altri titoli, Teramo prodotti contraffatti in vendita a rosticini tipici ma sono di carne polacca e poi rigore dubbio, il calcio di Serie C, il Teramo cade a Vicenza. Negli ultimi minuti rabbia in casa biancorossa per questo rigore concesso dall'arbitro, dal direttore di gara a pochi minuti dalla fine, rigore che ha sancito la sconfitta dei biancorossi al menti. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro edizione di Chieti, Lanciano, Vasto, Malore in bici, muore a 43 anni, Castiglione, Messer Marino, tragedia sulla strada, stroncato, marmista di Torrevecchia, Teatina. E poi Chieti, nuovo ospedale, ecco il verbale che dice no. Proseguiamo in basso, a Tessa incendiati oltre 40 ettari di bosco, dunque nonostante l'arrivo della pioggia ancora problemi in Abruzzo per quanto riguarda gli incendi. E siamo alla prima pagina del centro, edizione di L'Aquila, Vezzano e Surmona, come vi dicevo per quanto riguarda l'apertura delle scuole, problemi nella Marsica perché ieri c'è stata una scossa di 3.7 con epicentro a Scurcola Marsicana. Il sindaco di Avezzano De Angelis sospende le elezioni per le verifiche sugli edifici. E poi la cronaca con un incidente mortale a Roccapia, auto contro un cinghiale, muore consigliere 39enne. E poi il calcio con l'Aquila, parliamo ovviamente di Serie D. L'Aquila brilla ma a Pesaro in casa di una delle favorite per la vittoria finale è sconfitta, rosso-blu battuti per 2 a 1. E andiamo a vedere per quanto concerne le prime pagine dei quotidiani abruzzesi anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Vedete il titolo a tutta pagina che riguarda la scossa nella Marsica, tanta paura, epicentro a Scurcola, non è stato segnalato alcun danno ma la gente è scesa in strada. Il sindaco di Avezzano ha deciso con un'ordinanza di chiudere per oggi tutte le scuole. E poi vediamo anche gli altri titoli nella prima pagina del messaggero, muore a 40 anni nello scontro con un cinghiale, abbiamo visto anche dalle pagine del centro. E poi l'incendio della pineta d'Annunziana sfregiata dal fuoco, sarebbero una decina le piante divorate dalle fiamme, fiamme che sarebbero state provocate, lo vediamo in alto dalle lanterne cinesi, lanterne cinesi sotto accusa. E poi il dossier che riguarda le aggressioni e detenuti pericolosi, allarme carceri anche nella nostra regione, questo l'articolo di spalla che riguarda proprio questo dossier sui penitenziari della nostra regione dove negli ultimi tempi ci sono stati diversi problemi. E poi vediamo in alto gli altri titoli che riguardano in questo caso lo sport. Partiamo dal Pescara, Pescara con la Brodo, scocca l'ora di Elizalde, il difensore 17enne sudamericano che potrebbe dunque scendere in campo già sabato nella gara che il Pescara giocherà alla Rechi di Salerno. E poi Teramo, la sconfitta è di rigore a Vicenza, abbiamo detto di questo rigore contestato a sei minuti dalla fine. E poi il calcio di serie D, Fiore match winner, Lavastese vince il derby con Lavezzano, questo è il titolo principale che riguarda la gara di ieri giocata al stadio Aragona con l'1-0 in favore della squadra guidata da Gianluca Colavitto. Lasciamo per il momento le prime pagine e dunque i quotidiani della nostra regione, andiamo a vedere l'edicola nazionale, come sempre partendo dal Corriere della Sera, tutti o quasi i titoli sono dedicati alla tragedia di Livorno. Ieri il maltempo che ha provocato diverse vittime, anche dei dispersi. Livorno sott'acqua, trappola mortale, affoga una famiglia, il nonno muore per salvare la nipotina, il sindaco dice mancato l'allarme, recuperati sei corpi, ci sono due dispersi, è caduta a Livorno l'acqua che in pratica cade in un anno. E poi l'uragano Irma per restare in tema di maltempo, oscura Miami, Trump implora, Dio ci protegga. E poi vediamo anche altre notizie, Firenze, il mio atto è inqualificabile ma non sono uno stupratore, uno dei due carabinieri accusati di violenza. Parla di questa vicenda che potrebbe portare a provvedimenti drastici nei confronti, da parte dell'arma, nei confronti dei due militari. Andiamo a vedere anche Repubblica, anche in questo caso vedete il titolo principale riguarda il maltempo, il nubifraggio che fa strage a Livorno in tre ore. Come vi dicevo la pioggia di un anno. Negli Stati Uniti l'uragano flagella Miami, la città deserta è un immenso lago e il ciclone punta a Tampa. Dunque anche negli Stati Uniti bisogna fare i conti in queste ore con il maltempo. Siamo al messaggero, catastrofe annunciata, vedete il titolo con questa foto davvero emblematica, un'onda di fango, sommerge abitazioni e strade, scomparsa una famiglia, sei vittime a Livorno a causa di un violento nubifraggio. Ignorati tutti gli allarmi, scambio di accuse tra sindaco e governatore della Toscana. Interviene Mattarella, il Presidente della Repubblica. Siamo al fatto quotidiano, Livorno, il sindaco accusa, situazione sottovalutata, si poteva evitare sette morti nella città toscana, ma ci sono anche dei dispersi. Vediamo anche in basso, per quanto riguarda la politica, un titolo che parla dei Cinque Stelle, tutti i ministri Cinque Stelle, entro la fine dell'anno, Di Maio, esponente Luigi Di Maio del Cinque Stelle, dice 40% alla portata per guidare la Camera. Siamo al Libero che dedica il titolo principale alla vicenda di Firenze, non bastano due pecore nere per far neri i carabinieri militari che hanno avuto rapporti con le studentesse americane a Firenze, vanno puniti, mascalzoni, giù le mani però dagli altri centomila colleghi, un esercito del bene che dà la vita per proteggerci. E poi, vedete sotto, si parla e parla in questo caso il Presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, immigrati e banche, l'Europa ha sbagliato, dice Tajani. Proseguiamo con il mattino, anche sul mattino si parla della tragedia di Livorno, vedete il titolo al centro pagina, la strage dell'allarme ignorato. Livorno, Comune e Regione litigano sul codice arancione, Mattarella interviene il Presidente della Repubblica, basta polemica. In alto, ovviamente sul mattino quotidiano napoletano, si parla di calcio, del Napoli, la magia di Tre Lampi, vince anche la fatica, Napoli che passa per 3-0 a Bologna dopo aver sofferto per lunghi tratti di gara. Siamo al tempo, Raganoraggi, grillini che attaccano Marino, avevano promesso che Roma non si sarebbe più allagata, ma la prima pioggia è affondata. A Livorno il maltempo fa sette morti e il tornado arriva a Miami. Sole 24 ore, IVA, 20 miliardi di dati per la lotta all'evasione, maxi afflusso di informazioni con il nuovo spesometro. Andiamo ancora avanti. La stampa di Torino, tempesta killer su Livorno. Un'intera famiglia spazzata via dalle acque in un seminterrato, morti padre, madre, nonno e nipotino. Polemica sul mancato allarme, il sindaco denuncia la protezione civile. Non ha dato l'allerta massima. E ora, dopo i morti, ci sono le polemiche. In alto, l'uragano asciuga l'oceano a Miami, strade come fiumi. Vedete queste immagini davvero incredibili, con la città di Miami invasa dalle acque. Sembra davvero di attraversare un fiume, ma si tratta di una delle strade principali della città americana. Siamo al mattino, abbiamo già visto però prima il titolo del mattino, i titoli in prima pagina del quotidiano napoletano. Siamo invece al secolo XIX, Livorno, notte di morte e tempesta. Sette vittime e due dispersi nella città invasa da fango e detriti. Famiglia distrutta e in quattro affogano in casa. Nonno, salva la nipotina. Poi è travolto. Acqua che è arrivata ad un'altezza di quasi sei metri. Siamo alla gazzetta del Mezzogiorno. Nubifragio, un'alta tra strage. Livorno con morti e dispersi. Poi un titolo di spalla che riguarda la politica. Parla l'ex premier e segretario del Partito Democratico Matteo Renzi che dice se vinco ci riprovo. D'Alema è una sciagura. Dunque all'interno del centro-sinistra ci sono ancora polemiche a distanza tra Renzi e D'Alema. Chiudiamo con l'ultimo titolo che riguarda il secolo d'Italia. Vanno radiati. Questo è il titolo sulla vicenda di Firenze che riguarda i due carabinieri. Lasciamo le prime pagine nazionali dei quotidiani. Oggi in edicola vediamo le prime tre pagine invece dei giornali sportivi partendo dalla gazzetta dello sport. Lassù anche l'Inter. Vedete il titolo principale con la foto riguarda la formazione nera-azzurra a rigore di Cardi, Potenza-Perisic. Spal-KO punteggio pieno come le due favorite che sarebbero Juventus e Napoli. Per Allegri domani c'è il Barcellona e se una metà di Milano ride l'altra si lecca le ferite, piange. Milan che botta, tripletta di immobile, la Lazio ne fa quattro. Montella noi non ancora squadra, dice il tecnico rosso-nero. E Milan che giocherà anche in Coppa giovedì a Vienna. Lasciamo la gazzetta dello sport e siamo al Corriere dello Sport. Sinfonia-Napoli a Bologna un grande Reina respinge gli assalti rosso-blu. Poi ecco i tre solisti, Reti di Caillon e Martens, assist di Insigne in gol. Anche Zielinski. E poi in alto altri due titoli che riguardano l'Inter e la Lazio. Icardi e Perisic, i gemelli perfetti, decisivi. Anche con la Spal, ora l'Inter può sognare. Immobile show, il Milan travolto, tripletta dell'ex giocatore del Pescara. E siamo a tutto sport, Di Bala e Rede di Messi. Domani c'è Barcellona-Juve a tal proposito. E poi Toro da Grande, 0-1 a Benevento. I Granata soffrono e poi ringraziano Sirigu per alcune parate decisive. Nel recupero colpiscono con Iago Falche. Torino che passa al Vigorito per 1-0 proprio nei minuti di recupero. Lasciamo anche le prime pagine sportive dei tre quotidiani. Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Possiamo tornare a questo punto al centro per andare a vedere le pagine interne. E si parla ovviamente dell'inizio dell'anno scolastico. Campagna Scuole Sicure. Vedete il titolo principale. I genitori oggi verifichiamo quali edifici sono a rischio. E dunque si parla dell'apertura dell'anno scolastico. Campagna Scuole Sicure. Vedete, parla la presidente dell'Associazione delle Famiglie Abruzzesi. Non ci bastano gli indici e i dirigenti scolastici ai comuni, alle province. Chiederemo le fatture dei lavori fatti. Vediamo in alto qualche numero perché da oggi tornano in classe 174 mila studenti. Il record alla provincia di Chieti che d'altronde è la provincia più grande d'Abruzzo. E poi adeguarle, adeguare gli edifici scolastici, costerà molto. Ecco quanto solo a Teramo è stata fatta una stima della spesa. Per 25 istituti servono 160 milioni di euro. Andiamo a vedere l'altra pagina. Crolli, sentenze e responsabilità da chiudere gli istituti pericolosi. Vedete questo titolo a pagina 3. Così scrive la Cassazione sei condanne di professori e dirigenti della provincia per la morte di un liceale 17enne. E questo titolo riguarda questa sentenza. E poi altre notizie d'Abruzzo che non riguardano il capitolo scuola. Il WWF alla regione, inutile il rimboschimento dopo i roghi. E poi, attenzione, nelle carceri la situazione è esplosiva. Lo dice Nardella della Will. Abbiamo visto anche sul messaggero prima un articolo proprio sulla situazione difficile che si sta vivendo in questi ultimi giorni nei penitenziari della nostra regione. E poi, emergenza maltempo. Questo è un titolo in chiave nazionale, ma davvero importante e drammatico per quello che è successo ieri a Livorno. Un ubifraggio sulla città toscana. Vittime, frane, accuse, distrutta un'intera famiglia. Nonno eroe muore per salvare i suoi nipotini. E poi l'uragano Irma in Florida. Una scia di rovine e morte. Vedete queste immagini di Miami invasa dall'acqua, da fiumi d'acqua, nella città con la gente che è fuggita, che ha abbandonato le case proprio per l'arrivo degli uragani, dell'uragano Irma. E poi vedete questa notizia, un'altra notizia drammatica. La fossa degli orrori. Scoperti resti di 400 bimbi sepolti sotto un orfanotrofio in Scozia. Un caso identico. C'era stato qualche tempo fa anche in Irlanda. Andiamo avanti per arrivare già alle pagine della nostra regione, alle pagine delle province. Oggi, come sempre, ogni lunedì, grande spazio sui quotidiani allo sport. Ma di sport parleremo ovviamente nella seconda parte di Mattino 6. Ora possiamo concentrarci sulle cronache dalle province. Partiamo da Pescara. Pineta in fiamme. È accaduto sabato sera, sul Tardi, intorno alle 22.30. Dieci alberi bruciati per una lanterna cinese. Vedete il titolo? Perché l'inchiesta sul rogo è evidenziato come due testimoni abbiano rilevato che il fuoco sarebbe arrivato dall'alto. Il sindaco dice evitato un disastro naturale. De Sanctis, attenzione ai piromani. Andiamo avanti. Vedete la seconda pagina dedicata anche a questa vicenda. Perché ricordiamo che la pineta d'Annunziana è davvero un patrimonio di tutti. Un'area protetta proprio all'interno della città di Pescara. Parla Pirone, botanico dell'Università dell'Aquila, contro il fuoco, idranti e avvistamenti. Dunque, dice il docente, no all'eliminazione del sottobosco modificherebbe l'ecosistema dell'area protetta. E poi in alto, vedete quest'altro titolo, fianco a fianco per spegnere l'incendio, il grazie di Blasioli a pompieri e volontari. Andiamo avanti. Cambiamo argomento. L'inchiesta sul rigopiano. Si parla dell'allarme valanghe nel PRG mai approvato, sequestrata a Farindola. Una relazione del 2001. Il comune commissionò uno studio geologico malatto. Fu ignorato. E poi, sei indagati, ma la svolta è vicina, possibili nuove iscrizioni, fari puntati sui permessi e l'apertura dell'albergo. E poi, in basso, tornando al maltempo, ieri tre voli sono stati dirottati a Pescara da Ciampino di Sea per 550 passeggeri diretti proprio all'aeroporto, al secondo aeroporto di Roma. Si tratta di passeggeri partiti da Edimburgo, Dublino e Manchester, diretti proprio a Ciampino. I voli sono stati dirottati all'aeroporto d'Abruzzo fra le 11 e le 11.30 a causa del maltempo. Andiamo ancora avanti. Si parla dell'inizio dell'anno scolastico a Pescara, in provincia di Pescara, in questo caso. In classe 45.975 studenti, 54 scuole poco sicure, gli indici di vulnerabilità sismica. A Pescara, primato negativo per Marconi e Misticoni. A Montesilvano, timori per la succursale dell'Adelfico, appenne scongiurati i doppi turni. E poi, Pescara, Fontanelle chiusa, il sindaco chiarisca tutto in aula, lo chiedono i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Poi, aria di risulta, Civitarese replica alle critiche da Forza Italia, solo errori e mistificazioni. E poi, a Montesilvano, in lutto per l'ultimo saluto alla professoressa Anna Tiziana Croce, istituto Alessandrini, appunto in lutto per la scomparsa dell'insegnante. Andiamo ancora avanti. Per arrivare alla pagina di Chieti e Chieti e provincia, dal centro, con questo titolo che riguarda questa tragedia, di Castiglione Messermarino, muore a 43 anni mentre va in bicicletta, Fabrizio Agostinelli di Torrevecchia Teatina, stroncato da Malore, faceva un'escursione con gli amici nell'Alto Bastese. E poi, nuovo ospedale di Chieti, ecco il verbale che dice noi, nove pagine, l'esperto della regione, dà lo stop al progetto del gruppo Maltaura. Questo è un titolo importante per questa vicenda e che tanto sta facendo discutere negli ultimi mesi. E poi, sono arrivate le piogge dopo un'estate davvero secca e molto calda, ma i piromani bruciano. 40 ettari di foresta. Atessa, rogo doloso al bosco di Vallaspra, fiamme vicino al centro abitato. Il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, dice gesto ripugnante e ancora ettari ed ettari di bosco in fumo in queste ultime ore. Siamo alla pagina dell'Aquila e della provincia, in questo caso siamo nella Marsica, perché la paura senza fine con una scossa ieri di 3.7 della scala Richter. Chiudono le scuole, terremoto in serata, epicentro, ascurcola marsicana, lezioni sospese per verifiche ad Avezzano, Celano, Tagliacozzo e in altri centri della Marsica. Ci saranno proprio in queste ore, già dalla mattinata di oggi, le verifiche. Si è attivata, dice Dolioni, dell'INGV, un'altra struttura rispetto a quella di Amatrice e dell'Aquila. Nei prossimi giorni seguiremo attentamente la situazione, dice l'esperto, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E poi la pioggia non ferma, la sfilata degli Alpini, Tagliacozzo, lungo il percorso, tanti applausi, inaugurato il monumento donato dall'artista Stati. E poi un'altra tragedia sulle strade della nostra regione, auto contro Cinghiale, muore a 39 anni, la vittima è Filippo Frezza, un consigliere comunale di Roccapia. La macchina è uscita di strada. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Teramo, sempre dal centro, la cronaca in primo piano, lasciato con i due figli, perseguita la ex, la compagna lo abbandona, lui resta solo con i bambini, e le invia sms ai minatori, le piomba nella nuova casa, condannato, questo episodio di stalking in famiglia, che arriva dal Teramano, e sempre dal Teramano, Valle Castellana, Piromane appicca il rogo in un bosco. E poi, passaggio con il semaforo rosso, 579 multe, martin sicuro, sono quelle fatte nel periodo estivo con il rilevamento fotografico incassati, 90 mila euro. Siamo arrivati alle pagine dello sport del centro, allora possiamo andare a vedere insieme, invece, le pagine interne, almeno le prime pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero, poi ci fermeremo anche per vedere le previsioni del tempo, nella seconda parte parleremo in maniera ampia, come sempre, di sport. Allora, vediamo le prime pagine, anzi, le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero. Prima pagina che riguarda Pescara, Pineta, il rogo dalle lanterne volanti, l'ipotesi del fuoco venuto dal cielo, supportata da testimoni, si segue la pista dell'incidente, senza escludere però l'atto criminale. Alessandrini, sindaco di Pescara, dice, evitato il disastro, danni solo a quattro alberi, contestati alla regione i ritardi del piano di assetto naturalistico. Vedete le foto per quanto riguarda lo spegnimento dell'incendio e del sopralluogo di ieri mattina. E poi, acqua torbida, fontanelle chiuse, il Movimento 5 Stelle, dice il sindaco, chiarisca in consiglio comunale. E poi, in basso, si parla di cultura, perché penne esulta per la di Pietrantonio, orgogliosi di lei, dice il sindaco Mario Semproni, la scrittrice ha vinto il campiello con il libro L'Arminuta. E' davvero importante questo successo della scrittrice Vestina, forse nel premio letterario più importante del nostro paese. Siamo alla pagina dell'Aquila del Messaggero, progetto case, oltre mille le richieste per gli alloggi. Al momento, 180 appartamenti liberi, istruito solo il 50% delle istanze. Il compendio ospita oggi 109 famiglie sfollate dopo la crisi sismica di Amatrice. E poi Rotari, l'impegno per la rinascita post-terremoto. E a Montereale, la cronaca, venne trovata mummificata in casa. E' stata sepolta l'anziana donna di 92 anni. E poi Carabinieri lascia il colonnello Andrea Ronchei, città nel cuore ritornerò. Il problema sarà ancora la ricostruzione, dice l'ufficiale dell'arma, per i prossimi anni. Ma la prevenzione ha funzionato. E anche all'Aquila, la prima pioggia, disagi e allagamenti nelle zone a rischio. Un lago nei pressi della stazione. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona. La cronaca in veste cinghiale muore nello schianto, incidente nella notte sull'altopiano delle 5 miglia. Il conducente dopo l'urto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'auto. La vittima è Filippo Frezza, 40 anni, di Roccapia, consigliere comunale con delega allo sport, esperto escursionista. Ci spostiamo sul Mona, al premio Sulmona Artisti Rumeni nel nome di Ovidio. Si parla dell'edizione numero 44. E poi il ritorno, anche nelle pagine interne del messaggero, sulla scossa di terremoto di ieri nella Marsica, con epicentro a Scurcola Marsicana. Il sindaco di Avezzano chiude le scuole. E poi vediamo altri titoli che arrivano dalla Marsica, ma anche dall'area Peligna. Spese legali avvocati e bufera in municipio ad Avezzano. Vedete questo titolo nell'articolo in basso. E poi sempre ad Avezzano, De Angelis, cari studenti, vi darò sedi nuove, dice il sindaco della città marsicana. E poi invece a Sulmona, Morrone, nuovi focolai, ci pensa la pioggia. Fortunatamente a spegnere questo grosso incendio che tantissimi problemi ha creato nelle ultime settimane. E poi a Civitella, Roveto, il liri gravemente inquinato. Questa è la notizia che arriva dal centro, sempre in provincia dell'Aquila. Siamo alla pagina di Chieti, del messaggero acquisti su web via il progetto per creare due depositi smart. La città che cambia e poi a Tessa, invece, sediata dal fuoco, distrutti 40 ettari. Davvero preoccupante questo fenomeno degli incendi che continua anche con le prime piogge che hanno investito e riguardato la nostra regione. In basso siamo prima ad Ortona, lavori diga sud del porto, summit con la regione. E poi questa notizia che arriva da Castiglione con quest'uomo di 44 anni colto da malore sulla bici. Chiudiamo per quanto riguarda la cronaca con la prima pagina e unica pagina di Teramo e Teramo provincia sul messaggero. Vaccinazioni record in provincia, servizio potenziato sulla costa. I centri hanno viaggiato al ritmo di oltre 400 interventi al giorno. Vediamo altri titoli, ancora un ferito all'incrocio tra via Trieste e via Salerno a Giulianova. Sempre a Giulianova Caserma, sollecitata la regione, mancano ancora dei soldi. E poi a Tortoreto si è spento Orlando Clementoni, commercio in lutto nella cittadina tortoretana. In basso siamo prima ad Albadriatica, piova dirotto sul lungomare, però resta la sosta a pagamento. I ballinatori protestano per il prolungamento del balzello che ha azzerato le presenze. E poi un altro titolo che invece riguarda Atri, discarica vicino all'area protetta. La proprietà dice non è inquinante. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport. Allora possiamo fermarci per qualche attimo e andare a vedere insieme le previsioni del tempo per poi tornare in studio per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6. Abbiamo esaurito la lettura dei quotidiani per quanto concerne la cronaca, la politica con le notizie dall'Italia e dall'estero. Possiamo dunque aprire nella seconda parte, come ogni lunedì, l'ampia pagina dello sport. Iniziamo con il centro. La prima pagina riguarda il Pescara e soprattutto Stefano Pettinari, il nuovo oro del Pescara. Se i gol in tre gare, Zeman e la maturazione calcistica, i segreti del capo cannoniere della B. Andiamo a vedere anche le pagine che riguardano la terza giornata di Serie A. Il tonfo clamoroso del Milan. La Lazio ridimensiona il Milan. Rossi e neri vanno sotto sul rigore, poi affondano sotto i colpi di uno scatenato immobile. Tripletta. Vediamo in basso altri titoli. Udinese-Genoa 1-0, primi punti. La Padula fa craxi, treme per il crociato, per l'ex giocatore del Pescara. Sarebbe davvero una beffa per la Padula, chiamato quest'anno a dare una mano alla formazione rosso-blu dopo la stagione passata con il Milan. E poi Fiorentina, una passeggiata a Verona. Tutto facile per i Viola che dopo dieci minuti erano già sul 2-0. Fiorentina che batte al Bentegodi, la formazione Veneta per 5-0. Vediamo gli altri titoli. Napoli si scopre cinico a Bologna, tre tiri, tre gol. L'Inter non si ferma, la Spal è da applausi, 2-0 per i Nerazzurri a San Siro. E poi vediamo in basso gli altri titoli degli articoli che riguardano le altre tre gare del massimo campionato. Atalanta-Sassuolo 2-1, la staffetta Cornelius-Petagna scaccia la crisi dell'Atalanta. E poi un'altra beffa per il Benevento, il Torino lo punisce al 92esimo. Infine la sfida tra Cagliari e Crotone si risolve con la vittoria dei Cagliaritani, il gol di Sau. Andiamo avanti, dopo aver visto la pagina con tutti i numeri dei vari campionati, siamo al Pescara. Pescara-Zeman è la testa giusta, così è esploso Stefano Pettinari, segreti della punta del Pescara, dai consigli del tecnico. Alla maturazione, sei gol per Pettinari nelle prime tre giornate di campionato. Pensate, ed è scritto qui nel sommario in alto, che nelle ultime tre stagioni Pettinari aveva segnato sette reti. Dunque sette reti in tre stagioni, sei reti in tre giornate di campionato. Dunque davvero un'inversione di tendenza importante per l'attaccante nato a Roma. E vediamo anche il posticipo, uno dei due posticipi per meglio dire, del campionato di Serie B della terza giornata, con la vittoria a sorpresa del Brescia in casa del Parma alle rondinelle Lombard. È bastato un gol di Ferrante al quindicesimo del secondo tempo. E poi, questa mattina alle dieci, l'ultimo saluto a Pescara, l'ex biancazzurro Gino Dicenzo. I funerali si terranno nella chiesa dello Spirito Santo. Il ricordo in questo articolo di Gino Dicenzo, da parte di Giorgio Repetto, Bruno Nobili, Gatta, Onesti e Camplone, tutti ex biancazzurri. Ovviamente ci uniamo anche noi, come abbiamo fatto anche ieri nel corso delle nostre trasmissioni, alla famiglia di Gino Dicenzo, che era stato ospite in passato anche nei nostri studi. Andiamo avanti. Siamo alla pagina che riguarda il Teramo. Un rigore dubbio punisce i biancorossi. Nel finale Sales accenna una spinta a Crescenzi, che insegue una palla innocua. E l'arbitro premia il Vicenza. Teramo battuto al Menti. Possiamo vedere le immagini proprio dell'episodio clou. Eccolo qui, con il giocatore del Vicenza che cade a terra. C'è stato appena un accenno di spinta, ma l'arbitro ha indicato subito il dischetto. Tra le proteste, direi, giustificate dei giocatori del Teramo, evidentemente tratto in inganno dalla caduta del giocatore Vicentino, che stramazza al suolo, appena toccato da Sales. L'arbitro De Santis di Lecce comanda il calcio di rigore. Poi trasformato, lo vedete, da Comi. Dunque beffa nel finale per la formazione biancorossa. Il diavolo soffre soltanto nella prima mezz'ora quando i Veneti spingono con Vemenza, sfiorando più volte la rete del vantaggio. Li fermano. Calore del palo. Nella ripresa la squadra di Asta prende il controllo del campo e neutralizza gli avversari fino all'episodio decisivo. Sull'1-0, Graziano fa un fallaccio e viene espulso. E poi, Sansovini, proprio ex Teramano, Marco Sansovini, giocatore di proprietà del Pescara, dal dischetto salva la Fermana, che pareggia per 2-2 a Bolzano con il Sud Tirol. Dunque, protagonista anche Sansovini con questo rigore segnato al quarantesimo del secondo tempo. Andiamo a vedere anche il novantunesimo di Vicenza Terra. La rabbia del tecnico Asta e di Tulli. Quel fallo su Foggia. Il tecnico e il fantasista reclamano gli episodi, ma esaltano la prestazione. Ilari dice che dobbiamo ripartire dall'ottimo secondo tempo disputato qui. Vediamo anche le pagelle. Calore 7, Ventola 5,5, Caidi 6,5, Speranza 6, Sales 6, Varas 6, De Grazia 6, Ilari 6,5, Graziano 4, Bacio Terracino 5,5, Sumare 6, Foggia 6,5, Tulli 5,5, Altobelli 6. Vediamo gli altri risultati della giornata. Fano Pordenone 0-1, Mestre Gubbio 1-1, Ravenna Triestina 1-5. Cinquina dei Giuliani in terra romagnola. Renate Albinone F 0-1, San Benedettese Ferralpi Salò 3-2, Sant'Arcangelo Bassano 0-3. Siamo alla pagina della Serie D. Possiamo andare a vedere, però, prima di passare alla Serie D, anche cosa scrive il messaggero sulla sconfitta del Teramo a Vicenza. Eccolo qui il titolo. Il Teramo si arrende sul rigore generoso. Un intervento di Sales determina il penalty decisivo a 5 minuti dalla fine. E poi, vedete, di spalla asta questo penalty è proprio da rivedere nel primo tempo. Poteva essercene uno per noi su Foggia. E poi parla Tulli, l'ex di turno, ex giocatore del Vicenza. Nella ripresa controllavamo noi, ha detto l'attaccante della formazione Teramana. E poi Pescara, calcio a 5. Che botta William infortunato ai legamenti. È stato operato il giocatore del Pescara, calcio a 5. Siamo alle pagine che riguardano la Serie D. Restiamo sul messaggero, partendo dall'Aquila. L'Aquila K.O. a testa alta contro la superfavorita. La Vispesaro si aggiudica il big match. Grazie ad un gol di carta nella ripresa, finisce 2-1 per i marchigiani. Il gol di Boldrini aveva ristabilito il provvisorio pareggio. E poi Pineto non pervenuto. Samarino passeggia. Seconda sconfitta consecutiva. Espulso della Quercia. Pineto che era stato già battuto domenica scorsa in campo, in casa e sul campo del Matelica. I commenti. Amaolo prende tempo. Meritavamo il pareggio. Invece per quanto riguarda l'Aquila, come detto battuta per 2-1 a Pesaro. Battistini, il tecnico Aquilano, dice che ci è mancato un pizzico di esperienza. Andiamo a vedere anche l'altra pagina dedicata alla Serie D. Fiore stende l'Avezzano, il derby alla Bastese. Questo è il titolo dedicato alla gara più importante che si è disputata ieri. E poi il 91esimo con i due allenatori, mister Colavitto Gongola. Approccio molto buono. Giampaolo, tante assenze, non potevamo fare di più. E poi in basso il San Nicolò che in nove non regge all'urto del Matelica che passa sul campo di Morrodoro per 1-0 grazie ad una rete segnata da Malagò al 42esimo del primo tempo. Torniamo al centro e torniamo al derby che si è giocato ieri allo stadio Aragona. Un gol lampo di Fiore spegne l'Avezzano. L'Avastese dimostra tutta la sua forza. Biancoverdi da rivedere in affanno in difesa e poco incisivi davanti. Ma noi lasciamo lo spazio alle immagini per andare a vedere il servizio del derby tra L'Avastese e L'Avaziano. 1-0 il risultato finale per la formazione di casa. Va alla Vastese di misura il sentitissimo derby con l'Avezzano giocato all'Aragona in un clima caldo nonostante la pioggia caduta nella ripresa. Ai ragazzi di Gianluca Colavitto basta una rete in apertura di Nicola Fiore per portare a casa i tre punti e regalare ai Marsicani il primo dispiacere della stagione. Male nel complesso la squadra di Giampaolo generosa ma spesso inconcludente al cospetto di una Vastese più organizzata. Padroni di casa in campo con il 4-3-3 Marsicani disposti con un 4-3-1-2 nell'Avezzano esordio dall'inizio dell'ultimo arrivato Verruschi. Al sesto Vastese subito in vantaggio con il pallone recuperato da Leonetti sulla metà campo avezzanese e con il tiro a botta sicura respinto da Fanti prima della conclusione a rete di Fiore che non lascia scampo al portiere della formazione ospite al nono colpo di testa di Bianciardi sugli sviluppi di un angolo con la palla di poco sopra la traversa. Match subito ricco di emozioni visto che al decimo è Defeo a chiamare alla parata Fanti. La squadra marsicana non appare tranquillissima e al quindicesimo c'è una indecisione fra Verruschi e Fanti con Leonetti che però non ne approfitta facendosi respingere la conclusione. Pian piano la formazione ospite si scuote al venticinquesimo. C'è questa volta un errore della difesa adriatica che si lascia infilare al centro con Bagaglini costretto a falciare prima dell'ingresso in area di rigore guerra rimediando il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Della punizione si incarica Cerone che da 18 metri mette di un soffio a lato. In dieci la squadra di Colavitto deve ricalibrare il modulo che diventa un 4-4-1. L'Avezzano sposta in avanti il proprio baricentro anche se Camerlengo è impegnato solo al 32esimo. Il match è combattuto e molto sentito anche sugli spalti da dove piovono fischi copiosi per l'ex menna ogni qual volta il difensore biancoverde tocca il pallone. Emozioni anche sul finire ed in particolare al 46esimo quando Verruschi va a sgambettare Leonetti lanciato a rete rimediando anche lui il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Ristabilita la parità numerica la punizione della vastese non sortisce gli effetti sperati e con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la formazione del presidente Bolami. Subito protesta in avvio di ripresa al secondo quando cade a terra Fiore in area avezzanese dopo un contatto con un avversario sotto gli occhi di Arena di Torre del Greco. che lascia però proseguire alla decimo vastese vicino al raddoppio con Stivaletta che chiama alla respinta difficoltosa Fanti che viene poi sostituito al 14esimo da Lombardi con Giampaolo che getta nella mischia anche Dos Santos per D'Ambrosio. Sull'Aragona si abbatte un violento acquazzone che complica i piani marsicani costretti ad attaccare su un campo allentato. Gli ospiti spingono ma con poco costrutto visto che Camerlengo non deve effettuare alcun intervento degno di nota e anzi a meglio alla mezz'ora con un tiro ad effetto far correre un brivido a Lombardi con la palla che finisce di un soffio fuori. Il finale di gara vede al 43esimo però il gol mancato da Pellecchia con Camerlengo reattivo e poi la conclusione di Deramo parata a terra dall'estremo di casa. I biancoverdi ci provano con ostinazione fino alla fine ma al 94esimo Camerlengo dice no a Dos Santos con la festa dei padroni di casa ed il rammarico di un Avezzano punito soprattutto dai propri errori. Questo è il servizio sulla vittoria di misura della vastese sull'Avezzano siamo sempre sulle pagine del centro torniamo a parlare dell'Aquila l'Aquila brilla ma un siluro l'affonda il portiere della vis salva il vantaggio di carta proteste rosso blu per un colpo a palla lontana che ferisce. Caffiero e Battistini furioso mima il gesto delle manette. Iervese salta il Francavilla gruppo meraviglioso si parla della vittoria in anticipo della formazione giallorossa per 7 a 0 a Surmona in casa dei nero stellati. Pratolani che domenica saranno in trasferta all'Aquila. Ieri vi avevamo proposto il servizio nel corso della nostra trasmissione l'Abruzzo del pallone. Gara giocata sabato in anticipo e poi tornando anzi restando al girone F dove quest'anno militano tutte e sette le formazioni abruzzesi possiamo vedere il titolo che riguarda la sconfitta casalinga del San Nicolò. Matelica Corsaro per il San Nicolò il secondo stop consecutivo dopo la sconfitta della prima giornata ai marchigiani è bastata una rete di Malagò. Poi noi andiamo a vedere il servizio su questa gara realizzato da Stefano Recanati. Il sordio casalinguamaro per il San Nicolò cresce sconfitto dalla sfida del comunale di Morrodoro contro il Matelica. Comunale di Morrodoro che da quest'anno vedrà disputare tutte le gare interne del San Nicolò. Terreno di gioco pesante con la pioggia che ha creato non pochi problemi alle due compagini. La squadra di mister Luca Campanile in campo col 4-2-3-1 deve fare a meno del portiere Gorni infortunato dopo la partita di Agnone e lascia fuori per scelta tecnica Cane e Moriero. Matelica di mister Chiozzo con il 4-3-3 con tutti gli effettivi a disposizione. All'ottavo la prima conclusione della partita dalla distanza di Chiacchiarelli ma è attento a De Maglia che para in due tempi. All'undicesimo arriva la prima munizione per il San Nicolò ai danni di Petronio che li costerà Carra nel secondo tempo. Al dodicesimo tiro dal limite di Angelilli con parata a terra di Di Berardino. Al ventiquattresimo ci prova con coraggio dal limite dell'area Sassarini ma la palla finisce altissima sopra la traversa. Al ventottesimo la prima occasione vera della partita da parte del Matelica. Cross dalla destra di Marra e dopo la respinta della difesa Cabbianelli si aggiusta la balla sul sinistro ma tra lui il gol c'è il palo. Alla destra di Di Berardino a dirgli no. Al trentaduesimo ancora il Matelica questa volta con Magrassi che è lui della trappola del fuorigioco ma tu per tu con Di Berardino calciallato. Al trentacinquesimo la seconda munizione della partita la prima per il Matelica a finire sul tacquine dell'albitro il numero 11 Mancini. Due minuti più tardi ammunizione anche per Lo Sicco per un brutto fallo su Mozzoni. Al minuto 42 il gol del Matelica con Malagò raccoglie un cross di Gabbianelli che si coordina e con il sinistro riesce a battere il numero 1 Terramano. Dopo un minuto di recupero Matteo Centi di Viterbo manda le squadre negli spogliatori. Ripresa che parte subito con due sostituzioni del San Nicolò. Escono Chiacchiarelli e Marra per Massetti e Palladini. Stessi 11 per il Matelica. Al minuto 7 ci prova da lunga distanza De Santis ma il tiro è debole. Al minuto 9 primo cambio per il Matelica. Entra il numero 15 Gerevini per Lo Sicco. Al ventiduesimo calcio d'angolo dalla destra di Gabbianelli. Salta più in alto di tutti il Geremini ma non riesce a deviare il rete. Ancora girandolo di campi il San Nicolò richiama in pagina Angelilli e mette in cambio da Pollonia. Al ventisettesimo ci prova il San Nicolò ma il cross di Mozzoni è debole e facile presa di De Malia. Si arriva così al 35esimo quando il tiro dalla distanza di Sassarini si perde sul fondo alla sinistra di De Malia. Al minuto 39 la prima espulsione della partita. A farne le spese per doppia munizione il capitano del San Nicolò Petronio è un reo di aver protestato su un fallo fischiato a favore del Matelica. Un minuto più tardi arriva la seconda espulsione, questa volta per Cala e anche questa per doppia munizione dopo aver fermato un'azione di contropede di Dapollonia. Al minuto 46 vicino al pari San Nicolò con il numero 16 Callegarro che non riesce a spingere in rete un bel cross dalla sinistra del solito Mozzoni. Al cinquantesimo da segnalare anche l'espulsione del secondo allenatore del San Nicolò Falasca che raggiunge negli spogliatori Mister Campanini e il direttore generale espulsi in precedenza. Dopo sei minuti di recupero, un rivedibile centri di Viterbo mette fino ad una partita non bella ma combattuta da entrambe le squadre. Fa festa in Matelica per il San Nicolò, zero punti in due gare e domenica primo derby stagionale contro il Fangavilla al Valle Azzurra. Noi da Morrodoro ci trasferiamo al Mariani Pavone di Pineto. Pineto così non va, il San Marino passa con Nappello. Seconda sconfitta anche per la formazione di Amaolo. al San Marino basta una rete di Nappello. Al novantunesimo Amaolo dice mancati negli ultimi 16 metri. Allora parola alle immagini nel servizio di Roberta Di Sante. Due partite zero punti è il dato di fatto che non ti aspetti per un Pineto che gioca, lotta ma non riesce a pungere contro un San Marino caparbio e ben organizzato che va in vantaggio in avvio e lo conserva fino al triplice fischio finale. Alla prima apparizione casalinga la squadra di Amaolo in un'inedita divisa rosa si presenta senza Cercelluti e Battista Out per infortunio. Nel 4-3-2-1 esordio in difesa per Pepe con Orlando che si sposta sulla destra mentre in avanti la punta avanzata è il giovane Tinè supportato alle spalle dal trio Pezzotti-Bisegna-Napolano. Orecchia schiera un 4-3-3 confermando per nove undicesimi la squadra che domenica scorsa ha pareggiato contro la Vastese con l'unica differenza dicevoli per Candolfi e il tridente in avanti composto da Nappello, Zuppardo e Bugaro. Un cinico San Marino entra in campo col piglio giusto e all'undicesimo approfitta della prima vera occasione utile per passare in vantaggio. Bugaro dalla destra mette in mezzo un buon pallone con la sfera che causa pioggia resta pericolosamente in area dando tempo all'accorrente Nappello di insattare la rete del vantaggio Titano. Tra le fila pinetesi il più propositivo sulla fascia è Pezzotti che prova a piazzare qualche buon traversone ma il San Marino chiude bene gli spazi, la squadra è corta e ben organizzata per cui i locali sono costretti ad affidarsi alle conclusioni dalla distanza come quella di Mariani al ventiquattresimo che sorvola la traversa. L'occasione più ghiotta però arriva al trentaseiesimo e porta la firma di Napolano che raccoglie al volo un traversone di Mariani e scheggia il sette. Quando si distende il Pineto ha i numeri per far male ma manca negli ultimi sedici metri. L'ultima occasione dei primi quarantacinque minuti è per Bisegna ma la conclusione dalla distanza è preda di Folle. Nella ripresa il Pineto prova a recuperare le sorti del match. All'ottavo Bisegna fa suo un buon pallone sulla trequarti e lancia Napolano ma la conclusione dalla sinistra termina a lato. Quindi Amaolo decide di richiamare a sé proprio Napolano e prova a dare maggior peso in avanti inserendo Gragnoli e spostando Tine sull'esterno. Ma la risposta del San Marino è pronta. La squadra del Titano non si fa sorprendere e al ventiquattresimo è Bugaro in diagonale a costringere Giacchetta alla deviazione in corner. Al venticinquesimo Nappello raddoppia ma in posizione di fuorigioco. Brividi al ventottesimo quando sugli sviluppi di un corner Pepe salva sulla linea. Soffre il Pineto che rischia di incassare il raddoppio in contropiede con Cinque che appena è entrato a rilevare Zuppardo tutto solo spedisce fuori. Piove sul bagnato per i locali che al trentaseiesimo restano anche in dieci. Rosso diretto per Della Quercia che colpisce sul piede d'appoggio Pestrin e viene espulso. Nonostante l'uomo in meno però prova a recuperare la rete di svantaggio la squadra di casa. Al quarantaquattresimo cross di Pezzotti, testa di Pomante, alta oltre la traversa. Ma rischia di incassare anche il colpo del definitivo K.O. al quarantottesimo sulla ripartenza del Stammarino con Bugaro che in diagonale impegna Giacchetta. Ma che non è giornata per il Pineto lo si capisce al cinquantesimo quando in pieno recupero il neo entrato di Rocco tutto solo calcia incredibilmente su Folle. Si concretizza così la seconda sconfitta consecutiva per un Pineto atteso domenica prossima da un'altra gara molto delicata in casa contro la Vastese. Chiudiamo il capitolo relativo alla Serie D. Parliamo di eccellenza perché ieri si sono giocate le gare di campionato. 0-0 nel big match tra Spoltore e Chieti. Vanno in bianco, un punto a testa per ripartire. Ineroverdi ancora senza gol, palo dei Pescaresi con Morales. Vediamo gli altri match. River Chieti 65, Real Giulianova 1-1. Amiternina Miglianico 0-1. Ancora una sconfitta per gli Aquilani. E poi Alba Adriatica, Martinsicuro 1-1. Vediamo anche le gare dell'altra pagina. Angolana che ha battuto il Capistrello per 2-0. Paterno Acqua e Sapone 1-1. Vediamo poi in basso i tabellini delle altre tre gare. San Salvo Penne 1-1. San Buceto che batte la Virtus Cupello per 1-0. Torrese che con lo stesso risultato supera il Montorio 88. Andiamo ancora avanti. Siamo arrivati qui alle pagine che riguardano invece il campionato di promozione. Velocemente Visturs Teramo, Pucetta 5-0. Fontanelle, Mutignano 2-0. Alba, Montaurei, Santomero rinviata. E poi le altre gare. Celano, San Gregorio 1-1. Notaresco, Pontevomano 0-2. Nuova, Sant'Egidiese, Tossicia 4-0. Musciano, Morrodoro 0-5. Rosetana, Cologna 1-3. Vediamo anche le gare del Girone B. Sul Mona spento in avanti, non basta l'uomo in più. 0-0 col Passo Cordone. Poi Real, Treciminiere, Il Delfino 1-1. Piazzano, Fossa Cesia 0-0. Fate Rangelini, Castiglione e Valfino 2-0. Villa 2015, Virtus Pratola 1-0. Casolana, Palombaro 1-3. Ortona, Valdisangro 3-0. Poi sospesa la gara tra Casalbordino e Raiano per Pioggia. Buchianico che batte lo Sportland Celano per 3-1. Vediamo anche dal messaggero le pagine che riguardano l'eccellenza e la promozione. Vedete Chieti ancora in bianco, Aspoltore pari e giusto. E poi Martin Sicuro Alba, botta e risposta in 10 minuti. Le altre partite. Miglianico blitz esterno, segna Fiaschi. E poi Langolana vola con Massa e Ruggeri. Andiamo ancora avanti. Siamo però arrivati alle pagine che riguardano gli altri sport. Si è Cortona, Volley. Primo Test Amaro. Mercoledì ci sarà la gara con il Pineto per quanto riguarda il Volley. Poi il Basket, Contento, dice Roseto. Obiettivo salvezza. E poi Calcio a 5. Ecco e Sapone in crescita pari nel Test con Pesaro. Vedete questo titolo nell'articolo di Spalla. E poi sfuma il podio europeo per il Pescarese Alfieri. Il torneo Under 20. Siamo ovviamente a parlare in questo caso di Beach Volley. Si è appena concluso a Vulcano. L'Italia presente con tre coppie e due giocatori abruzzesi. Andiamo ancora avanti. Però c'è l'inserto in questo caso di sport nazionale. Possiamo tornare al centro per vedere i calendari di prima e seconda categoria. che ci saranno a Corfino. Oggi si scopre il cammino della stagione del Lanciano. La squadra di Del Grosso è la grande favorita nel raggruppamento B. Smaltita l'amarezza per il mancato ripescaggio in promozione. Domenica la formazione rossonera inizierà la nuova stagione. Andiamo a vedere anche il motociclismo. Con Iannone una debacle annunciata. Rientra in box per guai fisici. Il pilota bastese. E siamo alle pagine che riguardano gli altri sport. Rugby. Sabato al fattore il Memorial. Sebastiani. E poi in basso il volley. Sieco Ortona. E' tornato capital Lanci. L'alzatore in campo dopo l'infortunio. Andiamo a vedere un'altra pagina che riguarda in questo caso il basket. Marulli. Roseto avanti così. Oggi arriva Darrell Camps. Per quanto riguarda la formazione rosetana. E poi il basket di serie B. Salomone promuove l'Ortona e dice stiamo crescendo. In basso gli articoli che riguardano le altre formazioni di basket di serie B. Sacripante l'orgoglio del Giulianova. E poi il Campli. Scatta l'allarme infortuni. Campagna abbonamenti al Via. E poi Cicognani. Teramo. La mia occasione. E poi Drigo. Ecco l'arma in più dell'amatori. Pescara ancora una stagione ricca di squadre per quanto riguarda l'Abruzzo nel torneo cadetto di basket. Siamo quasi in chiusura con il ciclismo e con Canale che vince per distacco a Prati di Tivo. Il ciclista di Nocciano procede Marcone e Saladini. E segnati i titoli regionali Axi ai neocampioni delle dieci categorie. E poi in basso amici della B. C. Junior in grande spolvero a Chieti. Siamo davvero in chiusura. L'ultima pagina che riguarda l'Atletica. Under 16 in cattedra di Fabio e Capodifoglio della Tetis Chieti. E poi Ruggero e la Ciccotelli dominano a Canosa Sannita i due podisti della Runner Schieti. La classica organizzata dall'Associazione nella lotta Onlus. Infine Raia trionfa anche nel trofeo Tre Colli di Montorio Alvomano. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6. L'appuntamento primo della settimana con la nostra consueta Rassegna Stampa che tornerà domani puntuale alle 8. Il prossimo appuntamento invece con l'informazione di TV6 è come sempre alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale. A proposito di appuntamenti e di sport vi ricordo questa sera alle 21 come sempre in diretta dai nostri studi l'appuntamento con Replay con Enrico Rocchi per parlare del campionato del Pescara. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.